Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con un nuovo video. Come ben saprete, domani 14 novembre 2018, in Giappone mille fortunati avranno la fortuna di assistere in esclusiva a Dragon Ball Super Broly, esattamente un mese prima dell'uscita ufficiale in Giappone. Quindi ho deciso di cogliere la palla al balzo e riportare a voi tutto quello che dovete sapere per godervi poi al massimo questo film una volta che arriverà in Italia. Anche se vi ricordo che purtroppo non vi è ancora una data di uscita per le sale cinematografiche italiane, ma direi di incominciare subito. Numero 1, il film avrà una durata complessiva di 100 minuti. Numero 2, sarà ovviamente ambientato dopo il torneo del potere, ovvero l'ultima saga di Dragon Ball Super. Numero 3, Broly sarà reso finalmente canonico, di fatti le sue prime tre apparizioni nei suoi tre rispettivi film non erano legate alla continuity del manga e dell'anime, e di conseguenza il personaggio non era canonico. E sarà, a detta dei produttori, il personaggio più potente mai affrontato da Goku, da Vegeta e da tutti gli altri componenti dei guerrieri Z. Numero 4, per la prima volta in una trasposizione animata farà la sua comparsa Vegeta nella sua trasformazione di Super Saiyan God, ovvero quello dai capelli rossi. Dicono in una trasposizione animata in quanto nel manga questa trasformazione è già stata vista nella saga di Goku Black e Zamasu. Molti l'attendevano ed ecco che nel film viene mostrata. Numero 5, il film, come detto in un mio video precedente, andrà a riscrivere la storia delle origini del mito. Infatti Toriyama non la considera canonica in quanto non è stata scritta da lui, e di conseguenza all'interno di questo film i primi 20-30 minuti saranno dedicati proprio alla storia dei Saiyan e alla loro eliminazione da parte di Freezer. Attendetevi un inizio di film molto spettacolare e molto emozionante. Numero 6, a detta dei produttori le battaglie saranno spettacolari raggiungendo un livello grafico e visivo altissimo. Mai in tutta la storia di Dragon Ball c'è mai stata un livello così alto di animazione. Sarà una vera e propria gioia per gli occhi. Numero 7, uno spot televisivo andato in onda in Giappone ha annunciato che il film andrà in onda in ben 90 paesi diversi. Non si sa ancora se si intende distribuzione cinematografica o anche considerando l'uscita on video, ovvero DVD e Blu-ray. Ma 90 paesi è sicuramente un buon traguardo. Numero 8, non è ancora confermata, ma secondo alcune teorie il film andrà a seguire la trama del manga e non quella dell'anime. Questo si può evincere dal fatto che Goku nei trailer non utilizza la sua trasformazione Super Saiyan Blue Kaioken e non si è anche avuta traccia del Super Saiyan Blue Ascended di Vegeta. Inoltre, l'aura del Super Saiyan Blue ricorda quella del manga e non quella dell'anime. Tuttavia bisogna aspettare di vedere il film per saltare a queste conclusioni. Numero 10, questa è forse la più attesa dai fan. Secondo vari leak presi dai contenuti scaricabili in uscita di Dragon Ball Super e, da alcuni indizi trapelati in rete, si pensa che nel film possa comparire la fusione metamorf tra Goku e Vegeta, ovvero Gogeta. Vi ricordo che questo personaggio non è mai stato canonico, in quanto le sue due apparizioni avvengono una in un film, ovvero il diabolico guerrero degli inferi, e in Dragon Ball GT, nella forma di Super Saiyan 4. Che finalmente questo bellissimo e altrettanto figo personaggio possa diventare canonico? Lasciamo andare la nostra immaginazione e speriamo di sì. E con questo ultimo punto era tutto. Ho cercato di riportarvi in modo più veloce possibile tutte queste notizie. Spero possiate apprezzare il mio lavoro. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare il link per la mia pagina Instagram e la mia pagina Facebook. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Quando esce il film in Italia? Quando esce il film in Italia?